Nonostante tutto è possibile una comunità nuova. Canzoni d'autore, Gennaro Varone in concerto. Domani sera, mercoledì 31 luglio alle 21 a Montesilvano, al piazzale di Martin. L'obiettivo? Aprire un focus su un tema di stringente attualità, il disagio giovanile. Il progetto proseguirà da settembre in poi. Vuole essere di sostegno a genitori e docenti, dunque a scuole e famiglie per intercettare da subito appunto il disagio giovanile. Iniziativa che vedrà coinvolti più attori, psicologi, esperti di altissimo profilo, imprenditori e soprattutto l'esperienza artistica di Gennaro Varone e della sua band. Io dico sempre che le mie sono canzoni etiche, cioè rappresentano il mio sentimento verso i valori dell'esistenza. L'amore innanzitutto che in una canzone non può mai mancare, ma anche il lavoro che dovrebbe restituire dignità alle persone e non uccidere, la guerra, alla quale io sono fermamente contrario perché per nostra Costituzione l'Italia ripudia la guerra, i furbetti che vogliono passare avanti agli altri e saltare la fila e il mio sentimento, il sentimento dell'intera band rispetto a questi temi. Poi immagino che sia un momento di gioia e di divertimento per tutti, non è un concerto pesante insomma. Dunque una forte sinergia, scuola, famiglia, arte. Rossella Di Meco, coordinatrice del progetto, nonostante tutto è possibile una comunità nuova. Gli obiettivi di questo progetto sono obiettivi veramente importanti. Innanzitutto dotare le scuole e soprattutto docenti e genitori di conoscenze che possano intercettare il disagio dell'adolescente e diciamo il momento dell'ideazione violenta che poi non si trasformi in azione violenta. Altro momento importante del progetto è quello di evitare la solitudine, la stigmatizzazione. Tendiamo anche a richiuderci. In realtà noi dobbiamo aprirci, dobbiamo avere la capacità di poter esporre, raccontare, dire perché nel racconto c'è la possibilità poi di trovare la strada. Tornando così alla razza di questa iniziativa che è assolutamente nobile, c'è una sinergia diciamo in atto tra scuola e famiglia. Tra scuola e famiglia però anche arte. Questo progetto in realtà parte da due realtà. Una di un cantautore e quella della necessità di intervenire sui ragazzi. Quindi questa è la modalità che ci ha fatto pensare. Quindi due mondi apparentemente lontani ma che in realtà sono molto molto vicini.